Il Capo di Stato Maggiore della Marina, Mirai Pina Tecchi, è un grande segretore dello Stato, un militare, un grande ufficiale, che ha esercitato in posizione di comando altissime le sue funzioni a tutela e a difesa della sicurezza nazionale. Il Capo di Stato Maggiore della Marina, Mirai di Squadra, Walter Girardelli, ha ricevuto martedì 13 dicembre scorso nella Sala Vambitelli dell'ex Convento di Sant'Agostino a Roma, oggi sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, la Colomba della Civiltà, opera dello scultore Benedetto Robazza, simbolo del premio Le ragioni della nuova politica. Il riconoscimento, istituito nel 1996 dell'Associazione Culturale L'Alba del Terzo Millennio, preseduto da Sara Iannone, viene consegnato annualmente con l'intento di sollecitare e valorizzare quelle esperienze particolarmente significative nella testimonianza dei valori universali fondamentali per la crescita e lo sviluppo della società, e in particolare a chi, con la propria vicenda umana e professionale, ha contribuito all'evoluzione e alla trasformazione del nostro Paese, nell'economia, nella politica, nella cultura, nella medicina, nello sport, nell'arte, nella scienza, nell'ingegneria, nella religione e a chi opera nell'ambito della sicurezza del territorio. È stato un grande onore poter conferire anche a lui questo riconoscimento nell'anno proprio poi che cade proprio il ventennale. Il mare è il futuro, il mare unisce, ecco perché gli studiosi più preparati hanno definito il secolo in cui viviamo il secolo blu, della blu economy, e quindi è in quello il futuro e il mare in tutti noi, e per farlo e per assicurare questo futuro, la Marina ci sarà sempre con i suoi uomini e le sue donne. Grazie.